L'ASL dell'Aquila riduce le perdite di 7 milioni e mezzo di euro, facendo meglio di quanto previsto dai vincoli regionali. Nel giro di un anno, tra il 2016 e il 2017, la direzione ASL ha ridotto infatti le perdite di oltre 7 milioni e mezzo di euro, recuperando più di 300 mila euro rispetto agli obiettivi chiesti dalla Regione Abruzzo. Il risultato, raggiunto dall'attuale governance dell'azienda sanitaria guidata dal manager Rinaldo Tordera, assume ulteriore valore alla luce dell'attuale contesto sanitario, caratterizzato da ridotte disponibilità finanziarie e risorse umane limitate. L'ASL ha chiuso il bilancio del 2017 con una perdita di 13 milioni, a fronte di un passivo che nel 2016 era stato di 21 milioni. Dal confronto delle due annualità di esercizio emerge che le perdite sono state ridotte di 7 milioni circa, un risultato persino migliore di quello atteso dalla Regione, fissato in 7 milioni 300 mila. Ciò è dovuto al fatto che lo scorso anno l'ASL è riuscita a ridurre il passivo in misura, superiore al 33,8% del debito del 2016, così come fissato dalle percentuali della Regione. L'importante risultato, ha dichiarato Tordera, non è solo il frutto del contenimento della spesa, ma anche di una corta razionalizzazione e attenta gestione delle risorse umane e non. Fondamentale nel raggiungimento di questo impegnativo obiettivo è il sostegno della Regione, ha detto Tordera. È motivo di soddisfazione, ha detto Tordera, essere riusciti a far quadrare i conti, garantendo al contempo i livelli minimi e essenziali di assistenza sanitaria, assicurando l'efficienta dei servizi, nonché l'efficacia dell'azione amministrativa. Tra le misure correttive introdotte va rimarcata la riduzione dei costi negli acquisti di bene e servizi della ASL, ottenuta in virtù della revisione di numerosi contratti con le imprese interessate. Tordera, sulla base dei risultati di bilancio già acquisiti, prevede ulteriori riscontri positivi per la fine dell'anno corrente.